Ciao a tutti, oggi parliamo dell'intususcezione. L'intususcezione, soprattutto quella più frequente nei nostri animali, nel cane, l'iliocolica. Fondamentalmente è un invaginamento telescopico di un tratto intestinale all'interno di un altro, quindi praticamente un pepso di intestino entra nell'altro, creando ovviamente una serie di problematiche che andremo a spiegare in questo video. Vi ricordo prima di iniziare questo video di iscrivervi al canale se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria, soprattutto le patologie del cane e del gatto, se avete cane e gatti, perché cerco in questo canale di spiegarvi in modo semplice alcune patologie. Ora sapete che l'intestino è formato ovviamente da diversi tratti, abbiamo il piccolo intestino e il grande intestino. Fondamentalmente l'intususcezione è, fondamentalmente l'intestino si muove fondamentalmente attraverso delle contrazioni e quindi quando abbiamo fondamentalmente delle problematiche, per esempio delle interiti che non vengono gestite, soprattutto negli animali giovani, quindi molto spesso parassitosi, capita che un tratto di intestino si invagina nell'altro, quindi c'è un invaginamento all'interno dell'altro. Questo provoca fondamentalmente una serie di problematiche. Prima di tutto può essere anche asintomatico, cioè potreste anche non accorgervi. Una delle intususcezioni che fondamentalmente abbiamo più frequentemente, che sono più visibili, sono quelle del prolasso, per esempio, rettale nel gatto, a seguito di enteriti di solito coccidi o parassitosi. Vi metto qua il video qua sopra e poi a fine video potete andare a vedere il video del prolasso rettale. Fondamentalmente, invece, quando abbiamo questo invaginamento all'interno, quindi di solito viene colpita soprattutto la zona dell'ileo e la zona del ceco e la zona del colon, quindi fondamentalmente avviene in quel punto questo tipo di problema. Cosa succede generalmente? Che tipo di sintomatologia possiamo avere? Possiamo avere vomito, ematochezia, diarrea con sangue, possiamo avere fondamentalmente alla palpazione, alla visita, possiamo sentire una massa fondamentalmente addominale e generalmente colpisce gli animali giovani. Ovviamente in diagnosi differenziale possiamo avere delle masse, chiaramente addominali, ma fondamentalmente la diagnosi è tendenzialmente ecografica e all'ecografia si vede questo classico aspetto fondamentalmente a bersaglio che è molto caratteristico dell'intususcezione. A volte possiamo fare la diagnosi anche radiografica. Fondamentalmente quando abbiamo un'intususcezione possono avvenire diverse cose. La prima è che fondamentalmente l'intususcezione ovviamente rimane in quella posizione, quindi bisogna intervenire chirurgicamente. Generalmente se è un'intususcezione acuta e l'intestino non ha delle necrosi, fondamentalmente non c'è bisogno di asportare il tratto. Se invece è un'intususcezione cronica, un'intususcezione che ha già un intestino che è molto danneggiato, ovviamente si asporta chiaramente il tratto intestinale colpito. Poi ovviamente bisogna trattare la patologia primaria che sono le enteriti di solito, quindi nei gattini sicuramente le parassitosi, quindi i vermi intestinali, i coccidi, oppure in situazioni diciamo di patologie enteriche croniche andare a gestire chiaramente questi episodi di diarrea cronica. Fondamentalmente le prognosi di solito sono buone, chiaramente il consiglio di questo video è fondamentalmente non tanto riconoscere un'intususcezione che quella riguardano i medici veterinari, ma è quello di non lasciare gli animali in diarrea. Cioè fondamentalmente la diarrea è qualcosa che va gestita soprattutto se è una diarrea liquida, una diarrea, cioè non stiamo parlando di feci leggerissimamente più morbide rispetto al solito, ma stiamo parlando di animali che vanno in diarrea liquida, quello è un sintomo che va gestito, non dico nell'immediatezza di un'ora, due ore, ma nella giornata o il giorno dopo. Cioè non bisogna lasciare gli animali in diarrea liquida. Molto spesso può capitare che invece vengono portati al medico veterinario dopo 3-4 giorni di diarrea liquida. Quello è un problema molto importante. In questo video voglio sottolineare che l'intususcezione è fondamentalmente una complicanza di questo modo di interagire col proprio animale. Quindi se voi lasciate l'animale con questa diarrea per 3-4 giorni, è molto più probabile che abbiate un prolasso rettale nel gattino, un'intususcezione intestinale nei vostri cani e nei vostri gatti. Quindi è molto importante in questo video sottolineare questo, più che chiaramente farvi capire come che il vostro animale potrebbe avere un'intususcezione. Quella fondamentalmente è compito del medico veterinario. A voi vi deve interessare fondamentalmente che se non gestite bene la diarrea liquida, quindi se lasciate aspettare giorni, la complicanza più frequente è quella. Quindi che un tratto di intestino si invagini nell'altro tratto, perché ovviamente questo intestino è continuamente stimolato a causa delle interite. Quindi fondamentalmente è molto importante riconoscere questo aspetto. Quindi se si aspetta troppo il rischio è elevatissimo. Se si interviene subito, fondamentalmente nell'intususcezione, nel prolasso rettale, li vedrete mai probabilmente. Questo ci tengo a dirlo perché, ripeto, questo è un video che serve anche per darvi dei consigli. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.